Va bene, dimmi per favore, dove siamo? Siamo a Padova. Siamo a Padova. E per... che cosa Padova è molto famosa? Padova è famosa per il Santo, che è una chiesa, la cattedrale, il Duomo. Ma credo che se io qui per la prima volta, questa chiesa fa molto sorpresa per me. Ma quando io ero nelle tante le città italiane, tutte le città, anche piccole, hanno le chiese principali, che è uguale. Certo, sono bellissime chiese, ma questa chiesa non è sorpresa. Non è una sorpresa. Allora, ti è piaciuto Prato della Valle. Prato della Valle è la piazza che c'è vicino al Santo, quella con tutta l'erba. Non l'hai vista? No, no, no. No, devi andare a vedere allora. È molto bella, quella sì. Padova è famosa anche per quello. Anche per quello? Sì. E quanti abitanti abitano qui? Aspetta, dovrebbe essere 200.000 più o meno. 200.000? Sì, sì, è grande come città. Ah, grande. Non grande come San Pietroburgo immagino però. Nel San Pietroburgo adesso circa 6.000.000. Ah, cavolo. Non ufficialmente, ufficialmente 4.5.000. Ok. Ma ci sono tanta gente senza... loro vanno per lavorare lì. Ah, ok. Ma senza la registrazione non abbiamo un problema che voi avete anche. Eh, sì, lo so. Con migrazioni, cantante, altri problemi. Sì, lo so. Anche quello, eh sì, purtroppo sì. E dimmi per favore, quando tu andrai a San Pietroburgo? Eh, non lo so, quando avrò un po' più soldi. Perché costa molto. Costa molto? Il visto o il volo? No, non il visto. Il volo soprattutto. Il volo. Quanto l'hai pagato tu il volo? Io ho prenotato sei mesi prima della partenza e pagavo circa 250 euro. Andate e ritorno? Sì. Davvero? Eh, non è tanto. No, non è tanto, non è tanto, sì. Con che compagnia hai volato? E questa è l'Italia e l'Italia è Erfurt. Ah, ok. Loro vanno due insieme. Ok. Sì, sì, ho capito hai fatto scalo. Sì, sì, sì. E quanti paesi tu hai visitato? Allora, vediamo, una decina più o meno. Però tutti in Europa. Sono stata solo in Europa. Non tutti i paesi d'Europa, ma non sono mai uscito dall'Europa. E dimmi, per favore, quando io parlo con te, quanti per cento tu puoi capire? Perché io so che faccio tanti sbagli, ma per me è interessante. Tu sei l'Italiano vero e come parlo? No, allora, tu parli bene. Si sente che fai degli errori ogni tanto. È tanto che io parlo bene, davvero? Sì, no, è vero. Cioè, io riesco a capire tutto di quello che dici. A volte fai degli sbagli, ma comunque è comprensibile. Ma tu puoi capire? Sì, sì, certo. E dimmi una cosa. Quando io ero nel negozio con i libri, c'era il dizionario da Veneto a Italiano. Grandissimo dizionario. Io vedo che le parole non le so. Eh no, sono diverse. Cioè, se io ti parlo in dialetto Veneto, tu non capisci l'Italiano. Prova a dirmi alcune parole al dialetto Veneto. Allora, se mi parlo in dialetto Veneto, tu non capisci niente. Davvero? Hai capito cosa ho detto? Queste lingue così diverse? Eh sì. Fantastico. E tu sai Veneto? Sì, certo. Io parlo in Veneto con i miei genitori. Ah, con i tuoi genitori? Solo con i miei genitori, di solito, sì. Parliamo solo in dialetto Veneto. Ma tu hai studiato questa lingua o no? No, 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 no. L'ho imparata tramite la mia famiglia, tramite i miei nonni e tramite i miei genitori. Quando tu eri piccola? Sì, sì, sì. Si usa molto qui in famiglia parlare in dialetto Veneto. Oppure nei paesi piccoli, non nelle città, nei paesi più piccoli, si usa parlare in dialetto. È molto comune questa cosa. E quindi sono cresciuta così e ho imparato il dialetto Veneto. Tutti devono sapere o no? No, non è detto. Cioè se tu vai in un ufficio non ti parla un dialetto Veneto. È la maniera brutta o no? No, non è la maniera brutta. È semplicemente scortese nei confronti di chi non lo parla e nei confronti di chi non è Veneto. Perché, per esempio, se io parlo con Valentina, che è l'altra ragazza che vive qua, lei è sarda, viene dalla Sardegna, e lei non mi capisce se io parlo in dialetto Veneto. Quindi non lo faccio. Ma la grammatica è la stessa, ma le parole sono molto diverse. O anche la grammatica del libro? No, la grammatica è più o meno la stessa, però diciamo che non c'è una base grammaticale. Cioè quando tu parli in dialetto Veneto non pensi alla grammatica. È proprio, sì, cioè le parole sono diverse. Va bene. Ok. E grazie per la conversazione con me. Grazie.